Basta con la fiera dei campanili. Poche parole chiare e inequivocabili del governatore Marco Marsilio per mettere fine una volta per tutte alle polemiche di questi giorni circa il mancato coinvolgimento dei territori provinciali per l'istituzione della Film Commission. La corsa alla candidatura delle città abruzzesi per ospitarne la sede regionale, secondo il presidente Marsilio, si scontra con la vocazione naturale del capoluogo di regione ad accogliere l'ente della commissione cinematografica. In Abruzzo esiste un capoluogo regionale, io ho già detto quando abbiamo presentato all'emiciclo la Film Commission, la nuova fondazione, che è a Palazzo Dragonetti, che è una sede di proprietà regionale, in passato utilizzata come sede dell'assessorato alla cultura, quindi già vocata allo scopo della promozione culturale, insedieremo lì la sede della fondazione Film Commission in Abruzzo. Dopodiché tutte le amministrazioni comunali che vorranno partecipare alla fondazione, quando presenteremo lo statuto sarà tutto più chiaro, però siamo aperti ad ogni tipo di collaborazione, compresa l'apertura di più sedi dove le amministrazioni comunali potranno partecipare mettendo a disposizione i propri locali, personale in comando, insomma la presenza sul territorio della Film Commission non potrà fare altro che allargare le prospettive e anche il senso di partecipazione e di condivisione di tutto il territorio regionale. Però basta con le polemiche di Campanile che servono così a darsi un giorno di visibilità. Questa fiera che ogni città si alza, chiede, propone, pretende, la sede esclusiva sul proprio territorio è uno dei difetti del nostro Abruzzo che dobbiamo assolutamente superare. Ripeto, la sede c'è, è all'Aquila, nella sede, nel capoluogo regionale, piaccia o non piaccia è quello e va rispettato e dobbiamo imparare a rispettare il ruolo di un capoluogo regionale. Dopodiché ogni città che avrà la possibilità di mettere a disposizione spazi, personale, strumenti, patrimonio per arricchire la fondazione e per entrare da protagonista in questa importante partita di crescita di tutto l'Abruzzo e di promozione di tutto il nostro territorio sarà la benvenuta e siamo pronti a collaborare e a fare in modo che ci sia una presenza molto diffusa e ramificata della Film Commission in tutto il territorio regionale.